Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi come state vedendo sono qui purtroppo da solo su Rocket League Perché purtroppo ragazzi? Qui un like di conforto nei miei confronti, per quale motivo? Ci siamo visti io e Michele ieri sera un film di fantozzi, il problema è che durante la visione di questo film Michele si è addormentato Quindi oggi sono qui da solo ragazzi però lasciate un bel like e per la prossima puntata diciamo così ci sarà anche Michele Cosa vi porterò ragazzi oggi? Una modalità che porterò al 99.000% con Michele che è appunto la modalità rissa raga La modalità rissa è una cosa stupenda, non so fino a quante persone si riesce a fare, addirittura 4.4 raga diventerà il vero e proprio putiferio Che cos'è la rissa ragazzi? Ognuno di noi ha varie specialità, mosse speciali, roba davvero grandiosa e credo che farla tutti insieme è davvero fantastico Comunque ragazzi voglio dirvi una cosa, ringrazio la votazione che avete fatto su Telegram Voi direte, Michele, ma quale votazione? Di che stai a parlare? Per chi non lo sa ragazzi è un canale Telegram dove alla sera chiedo anche che video fare per il giorno dopo Non sempre ma adesso comincerò a farlo, soprattutto quando non ho idee Papà via l'azione! No raga Teleport! Mi ha fregato, vedete ragazzi ci sono talmente tante abilità fighissime che fanno paura Comunque stavo dicendo ragazzi passate immediatamente dal canale Telegram così sceglierete anche voi il video che potreste mai vedere Raga non si è notato, oddio mio Ok l'ho allontanata, ok no 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 Raga la calamita è anche fastidiosissima Attenzione Vedete? Me la sono attaccato col pongiglione Perché ha segnato questo? Ma che cacchio? No raga Che fail è successo Un autocoll incredibile Io stavo insultando Allora raga Se sarebbe stato contro di noi Cioè contro di loro sarebbe stato bellissimo Il problema è che ho confuso la porta raga Questo perché parlavo di Telegram Mannaggia la miseria Ma raga quindi io paravo il pallone in porta loro Ma che msd? Ma che msd? Ho fumato qualcosa raga Ma a me che sto recando che è quasi luna Però Ok raga questa è l'altra posta bellina Che è del mega pugno Per pochissimo l'ho mancato Per pochissimo Cioè raga dopo sto fail iniziale è molto bello Si può stare Oh mamma mia dove arriva sta palla Oh mamma mia mamma mia Ok raga Dai Buttiamola via grazie per averla ghiacciata Una l'ha presa con lo sturacessi Va bene Raga io ho messo un'ultra velocità a quello Ok raga di nuovo in porta l'ho mandata Dopo però allora c'è da dire che il gol di prima era molto professionale Il problema è che ho sbagliato a prendere la porta Ma l'importante è la professionalità Cioè ragazzi poi queste qui non sono nemmeno competitivi Quindi vedete la gente che non si inchiezza più di tanto Mamma mia mamma mia Questa è un'altra massa figa raga guardate Il rampino Di una spettacolarità proprio sovravalutata Non so che cazzo sto a dire Però ragazzi Mi ricordo che è lunedì notte però stiamo a recattolo per voi Sto a recà Perché ragazzi oggi non ho preparato nessun video serale Aspettate eh Ma facciamo la prova Eh se magari No raga Mi sento imbecille ve lo giuro Tutto è successo da quando ho fatto quel cacchio di autogol Da quando ho fatto quell'autogol Uh però attenzione Attenzione trottolino Ragazzi Anche se da solo perché praticamente il mio team non sta partecipando Ho fatto sia il gol per la squadra versare Che per noi Quindi ragazzi questo è un segno di grande Stronzaggine Perché potevo pure evitare l'autogol Ma ok raga non ci sono problemi Oh iaia l'ha preso lui Ragazzi comunque vi ripeto Se volete un video con Michele di questa modalità Mi raccomando Lasciate tanti pollicioni in su Perché so che Roccatlink vi piace L'avete votato anche come idea per il video serale Quindi mi raccomando Ci tengo No mi ha spinto Quello stupido del compagno eh Per non dire altre cose Che sono gentile Ma che cacchio Cioè se è stato il nostro compagno raga Ma in chezzo eh Non ci ho capito ben niente Vediamo un po' Perché ho visto uno che tirava Ah Vedo che colpo da maestro Come si suol dire raga Ha fatto un tiro che mi fa paura Vabbè raga Ci può stare dai Tanto Ho volato quello che ho fatto E' meglio che sto zitto Però ripeto raga Non lo sapevo Dai era Non era voluto Attenzione pallone in avanti per noi Ah ah Dimentico sempre Quelli sono i compagni di squadra Ho fatto il teleport col portiere Però troppo tardi raga Ho aiutato il tempo di Portarla via No Volevo prenderla di punta Per buttarla via Oh 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 la calamita Mamma mia raga Che gol stanno uscendo oggi Questo mi hanno messo pure l'oltre velocità Mi è uscito un gol con la calamita Il magnete Come volete voi Guardate La palla stava uscendo L'ho attrezzato Dentro la porta Cioè raga Ma che vesto a Dio fa Che vesto a Dio che mi sta uscendo oggi Un po' di culo raga Vi ripeto eh Quello è scontato Qui nessuno è pro Però almeno qualcosa di sfizioso Ci sta uscendo Ok Oh 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 Attenzione Puff Ballone avanti Bella Bella Mamma mia raga E sono tre gol per noi Questo sei molto fortunato Grazie al rimbalzo Sfortunato per gli avversari Però raga Perché Comunque l'accettiamo no Eh scusi L'abbiamo sognato Andiamo avanti ragazzi Dai che si può rimontare Cioè ce l'abbiamo rimontata Però si può vincere Attenzione Come la prendono Attenzione Ok stavolta ha segnato lui Credevo di aver segnato io Ma era un po' troppo esagerato Raga sinceramente Credo di avergliela semplicemente appoggiata Cioè Ah ok Lui l'aveva tirata Verso destra Io l'ho addrizzata verso sinistra E lui l'ha tirato centralmente Sì Sembra Gioco dell'oca Ma non è così Attenzione In mezzo il pallone Ok raga L'ho presa per falando in mezzo Guardate lì Guardate lì Olè Olè Curva Il rampino Raga aspetto una posizione migliore No Mamma mia che mi stavo uscire Raga Se mi usciva un gol di tacco Credo che si possa definire tacco Anche se sarebbe il culetto della macchina Però va bene Oh ma come ca Ma come ca Che ha fatto raga A fare quella finta Ah beh credo sia tutto merito della spine Il tornado raga Il tornado anche devastante Come mostra Ok qui l'ho tolta Dalla zona pericolosa Ah mi è scaduta Cacchiarola Non mi sono accorto Oh guarda quello che doveva col tornado Ma che sei pazzo Presa Presa Oddio Che pugno ci ha dato Tornato Ce l'ho anch'io il tornado raga Il tornado è buono per far girare le macchine Perché con la palla Non è che tanto si capisce cosa fa Mi hanno messo il turbo Il turbo Capisco un chezzo Vabbè raga L'importante è cercare di buttare in porta Eccola Attenzione Attenzione No Eh vedete Troppa foca da segnare C'è il teleport Con l'attaccante Con l'attaccante Ai 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 Raga Pensavo di fare una cosa buona Scambiando me Con l'attaccante Dico riesco a difende Invece Un millisecondo di prima E riuscivo a fare qualcosa Vedete Mannaggia la miseria Vabbè raga Comunque Ste partite sono una figata unica Allora andiamo Savantis Subito Eccola Ui 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 Ok raga Purtroppo è andata malino Oh mamma mia che volo Che volo in cielo Che volo in cielo Andiamo a prendere qualcuno Olè Esplosione buona Perché voglio fare sempre esplodere qualcuno E Michele lo sa bene Ma che caccia No raga Ma il nostro compagno sarà deficiente Voi direte Perché Luca Che cosa ha fatto Non so se avete notato Raga Ma il signorino Ha tirato con lo sciacquone Cioè Che più con lo sciacquone Con lo storo lavandini O storo cesti Come vorrete voi La palla fuori dalla porta E' stata una cosa strunze Però vabbè raga Noi voliamo Ce ne scappiamo Anzi Riscendiamo Giusto le chiappette Si vedono Il diadema Qua abbiamo trovato la tiara Ma sinceramente A noi del diadema Non ci ne frega un chiezzo Ragazzi oggi ovviamente farò solo una partita Non ve la prendete con me Anche se dura poco Ma Vi ripeto Senza Michele Mi diverto anche poco ragazzi Perché è un gioco Dove vi piace giocare in compagnia Comunque Per un prossimo video Insieme a Michele Su questa modalità Lasciate Tanti mi piace So che ce la possiamo fare Lasciarne più di 10 Che vuol dire già tanto Per una serie così Commentate il video Con dei consigli Con delle modalità Perché ragazzi Voi non sapete Ma qui C'è stato davvero il mondo C'è stato La drop shot Che non ho ancora provato Devo dire la verità Poi la rissa Che ho appena fatto Snow day Osea Logie Con il dischetto E tutto Canestro Anche molto bella E poi c'è la rocket labs Anche questa Molto molto carina Quindi ragazzi Fatemi sapere Quale modalità Volete consigliarmi Di nuovo Like Commento Condividete Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Ci becchiamo alla prossima E Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti